come montare e tarare il gira dischi che ti sei appena comprato allora questo video mi è stato richiesto e sollecitato dalla rivista af digitale una rivista molto nota molto seguita soprattutto sul web che mi segnala che c'è una grandissima voglia di informazioni in questo senso stanno infatti aumentando sempre di più gli utenti dei gira dischi quindi dell'ascolto del vinile e ben volentieri giro questo video che come al solito non sarà un mero banale tutorial ma cercherò di arricchirlo con qualche informazione magari qualche curiosità in più alla fa anche se il video durerà qualche secondo in più del normale allora sbagliamo il nostro giradischi lo appoggiamo ecco questo è il momento più importante della taratura della sistemazione di un giradischi il posizionamento su una base corretta sì perché un giradischi come probabilmente sapete prevede la lettura di un solco di una piccolissima vibrazione da parte della puntina di un solco inciso sul disco che equivale in pratica lo stesso lavoro che fa il microfono quando impugnato da me cattura le vibrazioni della mia voce e le traselle le commuta in segnale elettrico e la mia voce può essere catturata anche contemporaneamente al 5 t o di un ocellino che passa figurati cosa succede ad un giradischi quando oltre alle vibrazioni del disco va ad amplificare anche le vibrazioni di tutto il giradischi stesso quindi una condizione essenziale perché un giradischi suoni bene e che non vibri ecco perché nel fantasmagorico mondo dell'alta fedeltà vedete dei giradischi dalle prestazioni dalle costruzioni estreme sono quasi sempre tutte tese ad evitare di catturare le vibrazioni che nell'ambiente dove il giradischi suona inevitabilmente ci sono ci sono le casse che suonano e inevitabilmente le strutture all'interno della stanza vibreranno la struttura che fa da supporto al nostro giradischi può essere acquistata quindi ci sono in commercio una serie di tavolini apposta ci sono due categorie di tavolini anti vibrazioni quelli estremamente leggeri e rigidi magari montate su punte che ottengono il risultato seguendo una certa linea e l'opposto supporti dotati di una grandissima massa molto pesanti che proprio grazie alla loro massa si spera che non accolgano le vibrazioni e comunque non le trasmettono agire rischi ma noi abbiamo una abbiamo un test empirico molto efficace appoggiate i giradischi sul ripiano che avete a disposizione appoggiate mettete in funzione ovviamente appoggiate la mano sul ripiano se questo vibra vuol dire che è probabile che trasmetterà le vibrazioni a due giradischi o ancora appoggiate la mano sul corpo del giradischi stesso e se sentite che sta vibrando in simpatia con l'impianto stereo c'è qualche cosa da fare per evitare questa dannosissima vibrazione che è la prima cosa da tenere in considerazione quando si installa un giradischi immediatamente collegato questo discorso c'è la sistemazione dei piedini dei giradischi tutti gli apparecchi hanno dei piedini e spesso si possono svitare per due motivi il primo è ovviamente quello di mettere in bolle giradischi in modo che sia perfettamente piano mi raccomando sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale diciamo in modo che la puntina abbia una geometria corretta nel leggere nel penetrare nell'entrare nel piccolissimo solco che racchiude la musica sul nostro disco in vinile oltre che per mettere in bolle il giradischi stesso i piedini servono anche come ammortizzamento proprio contro le vibrazioni di cui abbiamo parlato fino adesso ed infatti se ci fate caso quasi tutti i giradischi hanno dei piedini che si possono svitare non solo per alzare abbassare l'altezza ma anche per permettere a un piccolo sistema di ammortizzamento che c'è all'interno del piedine stesso di lavorare in maniera più corretta un po come gli ammortizzatori della macchina le cui molle vanno tarate vanno non vanno lasciate a pacco non vanno lasciate a fondo corsa quindi date un'occhiata è una svitata ai piedini del vostro giradischi stavo dimenticando una cosa estremamente importante in cui spesso non ci si fa caso togliete assolutamente durante l'ascolto di un disco il coperchio il coperchio che si va a infilare su due cerniere abitate solidamente al corpo del nostro giradischi fa ad antenna per le vibrazioni mettendo in risonanza completamente quindi quando volete il massimo delle prestazioni togliete il coperchio dal corpo stesso del giradischi abbiamo parlato di piedini ma la parte più evidente di un giradischi il piatto stesso qui non c'è moltissimo da dire ma qualcosa si può fare comunque ad esempio ricordatevi di pulire accuratamente la superficie dove andrete ad appoggiare il vostro vinile non lo fa quasi mai nessuno nessuno quasi mai ci si pensa ma nel momento in cui appoggiate il vostro disco tutta la polvere sul piatto verrà inevitabilmente catturata elettrostaticamente dal lato b del nostro piatto del nostro del nostro disco che prima o poi vorremmo ascoltare no quindi puliamo dalla polvere il nostro piatto già che ci siamo facciamo attenzione a non schiacciare radialmente da una parte o dall'altra perché andremo a danneggiare il perno altra parte molto importante di un giradischi deve essere estremamente scorrevole estremamente preciso estremamente dritto e quindi rischiamo di danneggiarlo piega forzando il piatto in maniera disassata non c'è tanto molto altro da dire in questo momento sui sistemi di trasmissione quindi trazione diretta trazione cinghia ma nessuno me l'ha chiesto ma io esprimo la mia preferenza per i sistemi a trazione diretta nel caso di un utilizzo professionale per la migliore attività e potenza dei sistemi con motore direttamente collegati al perno mentre preferirei quelli a cinghia nell'ascolto di alta feriltà perché virtualmente isolano il motore che potente o meno è staccato fisicamente dal perno ed è collegato dalla cinghia che lo disaccoppia e quindi non trasmette le famose vibrazioni che abbiamo visto quanto sono malefiche nel nostro sistema di lettura di vinile già che ci siamo parliamo di questo giradischi di questo esemplare questo è uno che io da più di 35 anni è un tecnici sl 1200 come si chiama in gergo ed è probabilmente il giradischi e forse addirittura l'articolo di alta fedeltà più venduto in assoluto sul pianeta terra nel passato nel presente probabilmente anche nel futuro è un giradischi infatti infatti che per la sua costruzione estremamente robusta con delle features particolari che i suoi tempi erano assolutamente di vertice adesso ci sarà anche qualcosa di meglio che per questi motivi veniva assolutamente utilizzato da tutti i dj in tutte le discoteche in tutte le radio private in tutte le stazioni broadcast televisioni da tutti i ragazzi che volevano di esercitarsi a fare i dis giochi nelle feste e quindi se ne sono venuti veramente tanti anche perché ogni volta che si acquistavano non se ne acquistava uno ma se ne acquistavano due quindi tutto doppio è un giradischi veramente standard nel mondo dell'alta fedeltà professionale anche amatoriale lo prendiamo come esempio sia perché così diffuso sia perché in pratica tutte le regolazioni che hanno la maggior parte dei giradischi e ad esempio passiamo al braccio molto suggestivo braccio sembra essere il cuore dei giradischi e forse in pratica lo è e prevede parecchie regolazioni il peso di lettura l'anti skating e l'installazione della testina sullo shell cioè sulla conchiglia porta testina nel caso non fosse già premontata di fabbrica come vedete se disponete di uno shell universale come in questo caso che può accettare quindi qualunque testina voi andiate a comprare noterete che ci sono delle asole dove questa testina può scorrere in avanti indietro e può essere anche messa in assi o disassata ecco è molto importante che questa testina venga montata nel punto giusto non a caso come fare beh a corredo di ogni testina c'è una dima indispensabile che vi permetterà di fare questo allineamento in queste due feritoie che vedete nel video corretto è estremamente importante e viceversa la puntina in particolare se ellittica quindi non sferica non non penetrerà esattamente con precisione all'interno del solco e tanti saluti alla nostra riproduzione vediamo invece come agire per dare il peso di lettura la nostra testina come vedete ogni braccio ha un contrapeso dalla parte opposta alla testina che serve proprio per dare il peso di lettura corretto come facciamo a sapere qual è il peso di lettura corretto beh bisogna avere un punto di partenza un punto zero dal quale partire e quindi cominciamo identificare quello che è il peso vero e proprio e quella che è solamente la ghiera di lettura c'è una ghiera graduata che serve solo come indicatore muovendo il peso troveremo non senza non senza difficoltà un punto di equilibrio in modo che il braccio sia esattamente orizzontale non vada né verso l'alto né verso il basso sempre muovendo il peso posteriormente ecco questo punto una volta trovato è il punto di equilibrio dove possiamo ragionevolmente dire che il peso di lettura è zero a questo punto muoveremo la ghiera graduata e solo la ghiera graduata per indicare il punto zero appunto il braccio sarà ancora sospeso per aria e la ghiera indicherà zero e a questo punto muovendo il tutto peso più ghiera potremmo aggiungere la quantità di peso indicata voluta che diciamo in questo caso è un grammo e mezzo ed ecco che abbiamo giunto un grammo e mezzo a partire dal punto zero la nostra puntina appoggerà sul vinile con un grammo e mezzo di peso di lettura passiamo all'anti skating che cos'è l'anti skating non è semplicissimo cominciamo col dire che c'è un effetto della fisica per cui una volta appoggiata la testina sul disco e messo in movimento rotazione questo disco ci sarà una forza centripeta cioè che attirerà la puntina verso il centro una legge della fisica naturale questo effetto è dannoso perché in questo caso la puntina leggerà solamente il lato interno del solco essendo tirata verso l'interno verso il centro ed ecco che noi siamo invitati ad applicare una forza uguale contraria in modo da equilibrare questa forza centripeta quindi l'anti skating evita lo skating e lo scivolamento verso l'interno con una forza uguale contraria che andrà regolata empiricamente non c'è una regola fissa di solito si è invitati a mettere come quantità di anti skating una quantità equivalente al peso di lettura se abbiamo un peso di lettura di un grammo e mezzo metteremo 1,5 o sulla nostra schiera ghiera graduata come in questo caso di un anti skating a molla oppure giocando con i pesi nel caso nel caso il nostro girerischi sia dotato di pesi il tutto fino a dare una quantità di anti skating giusta qual è la quantità giusta nessuno lo sa non c'è una quantità giusta perché è variabile così come il peso di lettura corretto non esiste perché sia anti skating che peso di lettura purtroppo cambierebbero teoricamente a seconda del numero dei giri 43 o 45 a seconda se il nostro se la nostro braccio la nostra testina sono all'inizio a metà o alla fine del disco peso di letture anti skating abbiamo detto cambierebbero quindi si tratta di approssimazione non possiamo fare altro che approssimare nella maniera migliore queste due quantità peso di lettura e anti skating e accontentarci sembra strano è così il giradischi in vinile è un miracolo della meccanica ed è tanto fascinoso quanto impreciso è tutto un'approssimazione se prima o poi vorrete un mio punto di vista su se sia meglio se sia meglio l'audio digitale di un cd o l'audio analogico di un vinile farò un video ma sarà pericolosissimo in ogni caso questo è il mondo del vinile tanto impreciso e fonte di compromessi quanto fascinoso e magico per il momento mi fermo qui spero che continuerete a seguire sia a effettiva la rivista che sta ospitando questo video sia il mio canale che quello del microfono per tutto quello che riguarda il campo audio sia professionale che amatoriale ea presto